Al di là della penalizzazione, Allegri rischia per il secondo anno consecutivo di fare meno punti in campionato della Juve di Pirlo. Nella stagione 20-21 Pirlo chiuse a 78 punti. La scorsa stagione 21-22 Allegri ha esordito con 70 punti, uno dei punteggi più bassi della storia della Juventus. Mentre in questa stagione la proiezione massima è 80 punti, ma servono 7 vittorie nelle ultime 7 partite. Quindi già oggi con i 59 punti attuali che sono rimasti gli stessi dopo le ultime 3 sconfitte consecutive, si fa molta fatica a ipotizzare un Allegri che faccia più punti di Pirlo. Ed anzi c'è anche il rischio forse che Allegri faccia meno punti di Allegri l'anno scorso. Al di là del piazzamento che potrebbe anche essere migliore del quarto posto. Ma si sa, non è colpa di Max, anzi è comunque merito suo, va applaudito e non va criticato.